L'avvento del programmatic buying e del real-time bidding ha rivoluzionato le modalità per comprare e vendere spazi pubblicitari online. Così come è successo ai mercati azionari e delle commodities, a quelli dei biglietti aerei o delle camere d'albergo, anche gli spazi pubblicitari sono sempre più scambiati attraverso piattaforme automatizzate. L'affermazione dell'automated advertising, apportando un elevato grado di efficienza al sistema, è irreversibile. Per gli editori, i rischi di diminuzione dei prezzi, di commoditizzazione dell'inventory, di sostituzione del lavoro umano con l'apporto delle macchine, devono essere compensati da benefici tangibili. Zodiac Advertising, la piattaforma supply side del gruppo Ad Agostini, leader in Italia e Spagna, svolge questo compito per conto dei publisher partner. Attraverso il software proprietario di Zodiac Advertising, gli editori possono immettere parte del loro inventory all'interno di un ecosistema trasparente ed organizzato, gestito da Zodiac, a cui sono collegati centinaia di acquirenti, di SP e trading desks. Con il proprio team di analisti, trafficker e ottimizzatori, interamente basato a Milano, Zodiac Advertising supporta publisher e concessionarie nell'ottimizzazione delle vendite indirette, coerentemente con la forza vendita e con la gestione delle campagne premium. La soluzione di Zodiac Advertising, provvista di una data management platform che permette di creare specifici profili di audience, è l'unica che consente agli editori la gestione integrata del loro inventory display, video e mobile, attraverso una sola piattaforma ed un'unica interfaccia, fornendo tool e statistiche utili alla presa di decisioni.